E' stato arrestato per il reato di concussione il capo di gabinetto del comune di Pozzaro Giovanni Minardo, segretario del sindaco Giuseppe Sussenti. L'arresto del funzionario comunale pozzallese fa seguito a blitz di ieri pomeriggio della Guardia di Finanze, della Polizia Giudiziaria, della Procura di Modica, negli uffici di Palazzo Lapira, deserti, in quanto giornata festiva, blitz propedeutico all'acquisizione di documentazione e faldoni attinenti alla tesi accusatoria a carico dello stesso Giovanni Minardo. L'inchiesta è stata avviata dal procuratore di Modica, Francesco Puleio. Nulla trapera al momento sugli episodi contestati al capo di gabinetto del comune di Pozzaro, rinchiuso nel carcere di Modica alta disposizione dell'autorità giudiziaria. E' intanto di poche ore fa una nota del sindaco di Pozzaro Giuseppe Sussenti, il quale si dice sorpreso dell'arresto del suo segretario e capo di gabinetto. Nella nota il sindaco tiene comunque a precisare che l'arresto di Giovanni Minardo è estraneo all'attività amministrativa del comune. Sussenti si dice fiducioso sull'operato della magistratura e sul fatto che il funzionario comunale possa chiarire la sua posizione. Giovanni Minardo, stando alle accuse mosse dai finanzieri, avrebbe percepito denaro in riferimento ad episodi specifici al vaglio della procura.